Do Ciao senti, sono un addetto consegne pizza a domicilio Sì, sono qui sotto in atrio e non mi apre nessuno No, non ho capito, mi scusi Sì senti, mi potresti confermare l'appartamento? Sto suonando il campanello del terzo D Evidentemente ha sbagliato il numero Come? No, com'è possibile che non ha ordinato? Evidentemente Sono qui con la moto, scusi Eh, la sento male Ma come, non ha ordinato nessuna pizza? No Ma mi confermano qui che questo è il numero da cui hanno chiamato E hanno chiesto una pizza a quattro stagioni Ma com'è possibile? Oh, hanno ricevuto la chiamata da questo numero a cui sto chiamando io Quindi? Eh, quindi Ah vabbè, la pizza sono 25 euro Altrimenti la devo pagare io, eh Come facciamo? Come risolviamo il problema? Eh, mi dica lei come vogliamo risolvere Ah, va bene, va bene Eh, allora la pago io Ma che tirchi, oh caspita Ma che facce tosta ci sono in questo paese Ma guarda tu Capito Perchè 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 Perchè